... Bitonto si arricchisce di una nuova realtà politica, quella di Io Sud. Questa sera c'è stata l'inaugurazione della sede e vi hanno partecipato i vertici nazionali, regionali e provinciali. Bitonto TV li ha incontrati, sentiamo cosa ci hanno detto. A Bitonto un'agradita ospite, un buon ritorno per l'inaugurazione di una sede di Io Sud a Bitonto che mancava? Sì, non è che mancasse, c'era un nucleo che già esisteva intorno ad alcuni amici che sono stati con me fin dall'inizio di questa avventura. Però adesso vedo che c'è un'organizzazione molto più strutturata che vuole aprire un circolo, credo che l'apriremo nei primi di settembre. Questa sera era un semplice primo approccio con una base allargata rispetto alla base iniziale. Tra l'altro fatto in un momento in cui il Sud, il Meridione sta assumendo finalmente a quanto pare un valore anche più forte, più importante anche rispetto all'attenzione che il governo nazionale fino a questo momento non ci ha dato. Infatti sembra da più parti in molti partiti politici che rappresentanti meridionali stiano cercando una propria identità all'interno della creazione del partito. Lei l'ha cercato all'inizio con il Sud, diciamo che qualcuno la sta seguendo sulla strada di una rivalutazione degli interessi meridionali. Sì, quando io ho iniziato hanno detto che era soltanto una mia personale rivendicazione. Io non ho chiesto niente a nessuno, ho continuato a non chiedere niente a nessuno, infatti vado avanti tranquillamente libera per la mia strada, libera di votare a favore quando ritengo che valga la pena onestamente di votare a favore, libera di votare in maniera contraria quando ritengo una cosa diversa. Adesso ci sono altri movimenti che si sono creati successivamente e dei quali secondo me bisogna comunque tenere conto. Noi ci siamo già incontrati con gli altri in altre occasioni, adesso per il 14 faremo una convention, probabilmente la faremo a Bari e poi in un secondo momento anche in un altro luogo. Ma insomma questo primo incontro credo che lo faremo proprio a Bari e quindi cercheremo di mettere insieme le nostre forze perché è inutile rimanere divisi. Se l'obiettivo è comune è bene stare insieme. Lei di solito non dà indicazioni specifiche su quale orientamento, quale maggioranza sostenere. A Bitonti in questo momento c'è una maggioranza di centrodestra. Le indicazioni, il sostegno alla manigioranza oppure comunque assistere? Con una bravissima persona che è il sindaco che io ho sostenuto quando ancora era vivo il mio partito, oggi abbondantemente defunto da tanto tempo, Alleanza Nazionale, io l'ho sostenuto in maniera convinta il sindaco perché mi sembra persona decisamente perbene innanzitutto e credo che sia una qualità che va valorizzata fino in fondo. La ringraziamo e torni spesso a Bitonto. Grazie, se sono ospitata sempre così ci vengo con piacere, grazie. La senatrice Poli Bortone affida a due giovani quella che è l'attività della sede. Il giovane dentro, Michele Fanelli, è il presidente della sede di O Sud di Bitonto. Con quelle prospettive parte l'iniziativa di O Sud a Bitonto? Come ho ribadito prima, il nostro progetto rimane quello della indipendenza e della nostra specificità per quanto riguarda i problemi del Sud. Noi vogliamo risolvere o cercare di risolvere qualche piccolo problema per il Sud e specialmente per la nostra città Bitonto. Rispetto all'amministrazione in carica in questo momento, il Sud si pone in una posizione di attenzione, di riflessione, di sostegno, non avendo comunque ancora un consigliere comunale. Noi staremo sempre attenti, vigileremo e avremo modo di giudicare i fatti che questa amministrazione sta facendo o che ha intenzione di fare. Una delle prime attività della sede di Bitonto è quella di dotare un responsabile dei giovani, Angelo Lisi, un cognome importante per una delle personalità che più sono rimaste nel cuore dei politici bitontini, Angelo e figlio di Anzio Lisi. Allora, Angelo, con quale impegno assumi questo incarico che ti hanno attribuito all'interno della sede di O Sud? Lo ribadisco, il mio impegno è quello di avvicinare i giovani alla politica, nel senso di, prima di tutto, informarli su quello che è la politica davvero. Cioè, vuole che ci sia attività come in vecchi tempi dove, veramente come è stato ribadito durante la conferenza stampa, andare ad attaccare i manifesti per dire, diciamo, la cosa più semplice e più umile. Secondo me è da qui che si parte, perché bisogna fare prima attività, piuttosto che dire io voglio fare politica. Prima si fa attività, poi si fa politica e ovviamente poi si prendono iniziative che comunque interessano i giovani. Io voglio comunque far sentire, almeno dal punto di vista di noi giovani, la nostra voce, almeno dal punto di vista cittadino, su quelli che sono i nostri diritti, penso. A Bitonto, in occasione dell'inaugurazione della sede di O-Sud, anche il coordinatore regionale, l'onorevole Rosario Polizzi, con quelli prospettive O-Sud in Puglia si propone come partito con i valori meridionali? Ma con le prospettive sono buone perché il territorio ci segue moltissimo, lo abbiamo visto anche nelle ultime elezioni amministrative che abbiamo avuto. E poi il nostro progetto è portare il Sud a protagonista della realtà nazionale. Ecco, Bitonto sembra avere una tradizione anche molto affezionata alla senatrice Polibortone che torna molto volentieri nella nostra città. Le sembra un gruppo che può dare delle soddisfazioni al partito come coordinatore regionale? Ma Bitonto, diciamo che, poi per quanto mi riguarda, è un paese, una città, diciamo, che io ricordo con grande passione perché ci ho vinto le elezioni in maniera molto brillante, considerando che abbiamo fatto una campagna elettorale di esattamente 15 giorni. Quindi, e poi d'altra parte c'è un fatto sostanziale, Bitonto è un centro che ritengo in Puglia, ma forse nel meridione, è a livelli culturali altissimi. Poi avete quella cattedrale, quel mosaico, avete l'ultima cosa bellissima, è quella biblioteca con tutte le opere d'arti. Cioè, Bitonto per noi è un punto di riferimento culturale, storico, fondamentale. Lasciamo stare l'olio, lasciamo stare le cime di Bitonto perché sarebbe troppo prosaico ricordarlo. Ma con tutto questo bagaglio, e beh, io ritengo che sia fondamentale che un gruppo si riunisca e che voglia portare avanti il discorso di Osud, che è un partito che si propone, che si predispone a veramente essere leader per il sud. Con quelle prospettive in provincia di Bari o sud si propone all'elettorato e ai cittadini? Beh, è un partito che si sta costituendo non soltanto a livello di vertici, ma anche a livello territoriale. Questa è la cosa più importante per noi. Siamo presenti ormai in tutte le città della provincia di Bari e questa sera siamo particolarmente soddisfatti perché una città come Bitonto non poteva non avere una rappresentanza autorevole del nostro partito che si sta radicando bene in tutta la nostra regione e che è la bandiera delle ragioni del mezzogiorno e del sud d'Italia. In caso di elezioni, Osud di solito valuta la luce dei candidati, delle coalizioni. Ci sono delle indicazioni particolari anche se siamo lontani da una scadenza elettorale? Siamo lontani ma siamo vicini da una reduce esperienza elettorale. Il nostro è un partito che rispetterà le autonomie del territorio, quindi valuteremo caso per caso, città per città perché riteniamo che ormai le contrapposizioni ideologiche siano ormai superate e dobbiamo pensare ai programmi e agli uomini.